Il modello della scuola è di tipo psicodinamico, ciò significa che le teorie di riferimento sono per ciò che attiene allo sviluppo le teorie psicoanalitiche e poi in maniera particolare per ciò che attiene alla dimensione simbolica e anche al rapporto psicosoma alla psicologia analitica. C'è una caratteristica che caratterizza particolare di questo approccio ed è il ruolo particolarmente attivo che il terapeuta ha nell'interazione con il bambino. Per ruolo particolarmente attivo significa che il terapeuta interviene, si muove, gioca con il bambino e ciò letto in una dimensione simbolica. Questo consente, questo diciamo accomodamento del modello psicodinamico ci ha permesso di lavorare con bambini molto piccoli e anche con patologie importanti dove sono presenti aree molto arcaiche dello sviluppo, dove non è possibile intervenire attraverso la verbalizzazione. Per questo motivo all'interno della formazione viene dato uno spazio particolare alla formazione corporea, diciamo alla possibilità di essere consapevoli della propria espressività corporea per poterla utilizzare come uno strumento di pensiero all'interno del setting terapeutico. L'altra cosa importante è che soprattutto negli attuali scenari questo modello ci consente di lavorare sia in una terapia di adica che abbiamo anche qui un po' riadattato con un intervento attivo dell'operatore, sia in terapia di gruppo che coinvolgono o solo i bambini o i bambini e i genitori perché ovviamente i genitori sono parte integrante della terapia e quindi ricevono un'attenzione particolare nella formazione.